Aspetta aspetta allora ti volevo vedere una cosa Se ti iscriverai al canale io in un video ti saluterò e mi iscriverò io al tuo canale E se commenti con scritto ho messo like e mi sono iscritto però fatelo Io metto il cuoricino e il mi piace al commento E così se vedete che io mi iscriverò anche al vostro canale se ce l'avete Mi iscriverò un commento sul primo video che vedrò Quindi non perdete questa occasione speciale e riceverete in omaggio questo omino Grazie mille per il vostro supporto Sono Nigero e parto di cosa perché questo gioco non c'ha una pausa mamma mia Ok Questo gioco è un bel gioco Fine Comunque questo gioco volevo portarlo un po' sul canale perché mi sembrava bello Da portare un po' un nuovo gioco Poi non lo so come Cioè se volete un'altra sera un altro episodio Geritemi voi Vabbia Pubblicità Ok Troppo alto Niente va bene Di punti interrogativi Ok Non mi dovrebbe prendere E infatti non mi ha preso Andiamo su per sicurezza No quasi il bonus Va bene scrap Che schifo che ho fatto Amma mia I guttoli Questo gioco Che ci sono troppe pubblicità Però Eh Questo Cioè Del loro Non facciamoci domande Dai dai c'è il bonus Dammi il bonus Dammi il bonus Sì Adesso Scrappiamo Tutto il mondo Dai c'è il bonus Lissuno E vabbè Scrappa Troppo Giusto Troppo Giusto Ok Ragazzi le pubblicità però Sono troppe Spero ovviamente che il video vi piaccia Ok Dateci Il bonus Dammi il bonus Bonus Che Che bello What the hell Ma che roba Uffa però Se c'è un'altra pubblicità Pubblicità Cioè io di solito gioco da dirto gioco Poi però quando faccio il video Tutte ne abbatte Ragazzi Giuro Voglio fare quella super Niente va Ora faccio il perfetto Guardate la profezione Ciu Yeah Cod'è? Vediamo un po' Sì l'ha fatto L'ho fatto Sì Tre martelli Il villaggio potrei attaccare Oh Quello di Chris Jenner Oh Wow C'è Ti prego Ti prego Sì grazie Ma Uffa Mancava così poco Raga C'è Io non ci credo C'è ma veramente Sono sconvolto Almeno la shop Dammi quello sopra E ovviamente mi dai quello sotto Va bene Non dico niente Forse è meglio Questo sarebbe dell'oro 50 Faccio No No 50 Sapevo Quanto voglio bene Le pubblicità Ok Ui Due No Beh cosa sono sti cosi Che c'è Di solito io non li prendo Non mi piacciono Cioè non mi piace Di solito C'è me la gioco di più Dal bonus Non prendendo questi Cosini qua Un po' va a prenderli Voglio vedere che sono Però Ah Ok Ci sta Ok Almeno sei in italiano Ma quella è Jennifer Lopez? E quella è quella Se In italiano No No Se non faccio il bonus Qua io Veramente Ecco L'ho preso da dio Raga Se dura ancora un po' No C'ero quasi Ma è gigante Non mi devo distrarre Va bene C'è ovvio che non ce la faccio Ok No raga Come ne devo preparare uno C'è la faccia Divento god C'è raga Che vi ho detto Ui No pubblicità No Se mi esce Un'altra pubblicità Di coin master Giuro che ci faccio Un video Veramente No Non sto scherzando Ci faccio un video Se esce un'altra pubblicità Una bestia Dai ti prego Becca il bonus Per favore No ovviamente Cosa becchi No Perché c'era Quello in mezzo No Ah Non mi vogliono fare giocare A Quel gioco Coil master Dammi il bonus Dammi il bonus Deca Ma grazie Sei un grande È lunghissimo No il bonus Lo becco Non l'ho beccato Di pochissimo Che poi non so manco Cos'è Ah Ci sta dai Va bene No Ancora il master Ve l'ho promesso Raga ve l'ho promesso Cioè Le bombe se vi mantengono Eh questo è il mio gioco Che bello Va bene raga Va benissimo Perché mi sono installato A sto gioco Lagga anche Va bene Superiamo 5 like E faccio Il video di Coin master E 5 like Però raga E se no no Ok Quella cosa C'è ok Non è facile A sto gioco No l'ho rotto Vediamo di quanto scendo Vabbè raga Allora Dai Spesso che vi è piaciuto Superiamo i 5 like Se vi facciamo alcuni video Di 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 Nostro Allora Eh vabbè Commentate con Il blob E noi Hashtag blob Ovviamente E noi Ci rivediamo In un prossimo Prossimo In un prossimo Video Ciao In un prossimo In un prossimo